La rivoluzione del business collaborativo, i contratti di rete per crescere senza scomparire. Un anno di rete e di imprese in Abruzzo, ovvero opportunità di sopravvivenza e competitività per il tessuto imprenditoriale caratteristico di questa regione nel mercato globale, raccontato nel volume in vendita nella libreria qui a Abruzzo di Viale di Avicis a Pescara. Piccolo e bello, però oggi aggiungerei che se integrato in rete è meglio. Questo nuovo modo di essere organizzati per essere competitivi nel mercato globale sta cominciando ad entrare a far parte del DNA dell'imprenditoria abruzzese? C'è bisogno di un vero e proprio cambio di mentalità. Questo è il nocciolo duro, perché ogni imprenditore è geloso del suo know-how, del suo sapere, ma oggi è necessario che lo si condivida questo sapere, perché attraverso la condivisione si possono aggredire mercati nuovi che altrimenti da soli non saremmo in grado di aggredire, quindi non potremmo competere in nessun modo. La prospettiva è questo 2013, cosa accadrà? Migliorerà la sensibilizzazione e soprattutto la partecipazione ai contratti di rete? Spero proprio di sì. In Abruzzo è uscito da poco il bando sulle reti, con scadenza il 29 marzo. C'è un interesse sempre più costante su questo nuovo strumento e credo che sia oggi forse tra gli unici strumenti che permettono di mettersi insieme in una rete tutto sommato leggera, che non ha nulla a che vedere con i consorsi, per esempio, che ti tengono un pochino invegliati, diventi un numero. Qui la tua identità la mantieni comunque ed è questa la cosa più importante.